Nell'ambito del progetto mobilità garantita per il trasporto di persone con limitate capacità motorie o svantaggiate presso strutture medico-sanitarie sul territorio comunale e in considerazione del crescente numero di richieste della variegata tipologia di richiedenti del servizio da parte di utenti svantaggiati del pulmino Fiat Doblò incomodato gratuito al comune, il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, ha dato indirizzo all'Ufficio Servizi Sociali affinché intervenga tramite l'assistente sociale nella valutazione delle richieste che dovranno essere presentate all'Ufficio dei Servizi Sociali Comunali, utilizzando modelli predisposti dai quali si possa evincere la condizione di invalidità, disagio economico, età avanzata, solitudine familiare e quant'altro possa comportare una situazione di svantaggio. Le richieste saranno valutate di volta in volta dall'assistente sociale che autorizzerà il trasporto. Le richieste accettate saranno inoltre trasmesse con cadenza settimanale alla Cilento Servizi che effettuerà il trasporto nei giorni e negli orari richiesti. Il servizio è gestito dalla società partecipata a Cilento Servizi che mette a disposizione proprio personale per il servizio gratuito.